Un parcheggio interato a pochi metri dal Castel Sant'Angelo, il progetto a pochi passi dalla mole adriana inquieta il municipio 1 che si è detto contrario al progetto e che negli ultimi giorni ha visto arrivare una ruspa in quella che doveva essere la zona designata. L'opera tra quelle considerate essenziali e indifferibili in vista del giubileo figura anche nel DPCM che è stato licenziato a giugno dal governo. In quel provvedimento si faceva riferimento però anche a una conferenza dei servizi che all'epoca del decreto non era ancora terminata. Nel corso dell'estate è finita e come riferisce il municipio 1 in maniera tutt'altro che favorevole al proseguimento dell'operazione. Si continuano i lavori per il parcheggio sul lungo Tevere Castello, nonostante la conferenza dei servizi del 20 luglio si sia chiusa con un parere negativo, ha segnalato l'assessore municipale alla mobilità Adriano Labucci che ha pubblicamente posto la questione. Perché non ci si è affermati anche a fronte delle molteplici criticità emerse e anche a dispetto del parere negativo che era già stato rilasciato dalla giunta municipale, una domanda quella di Labucci in attesa di risposta.